Ciao a tutti amici e benvenuti su Starbio. Se non l'avete ancora fatto accendete la campanella ed iscrivetevi al canale. Dopo moltissimo tempo finalmente abbiamo di nuovo ripubblicato un nuovo video. Valentina Garzonno è una delle influencer più popolari della Columbia e non solo. Ha spopolato su ogni piattaforma online disponibile e in questo mese festeggia dopo moltissimo lavoro un milione di follower sul suo account Twitter. Questa bellissima e talentosa ragazza nasce a Pocotà in Columbia nel 1998. Ha iniziato per gioco creando contenuti su Youtube e video divertenti, ma ciò che l'ha distinta successivamente è stata in seguito la sua bellezza. Soprannominata dai suoi follower anche come Piccola Vale, data la sua altezza di 163 cm e il peso di 54 kg, molti utenti in seguito cominciarono ad apprezzare il suo outfit, spingendola pian pianino a diventare una delle influencer di moda molto famose. Molti utenti in seguito cominciarono ad apprezzare il suo outfit, spingendola a diventare un influencer di moda. Da lì a poco, molti marchi famosi la contatteranno per delle sponsorizzazioni personali, dato il suo alto numero di follower su Instagram e su Youtube. Dopo la pandemia lancia il suo marchio di moda personale, molto apprezzato dalle adolescenti del suo paese. Quello che la distingue, a differenza di tanti altri influencer, è stato quello di non volere il successo nell'immediato, ma coltivare la sua fama per avere una gratificazione a lungo termine. E questo è tutto amici, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like ed iscrivetevi al canale. Un saluto da Star Bio.